È stata una domenica di divertimento all'insegna dello sport e della leale rivalità, quella che si è svolta lo scorso 4 dicembre in occasione di San Cataldese Catania, partita di calcio valida per la 14esima giornata del Girone I, campionato di Serie D. Sono stati oltre 2.000 tifosi, 1.500 del Catania e 700 della San Cataldese, presenti allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. La partita, terminata in parità 1-1, si è svolta senza alcuna criticità grazie alla collaborazione delle due società e alla responsabilità delle due tifoserie che si sono limitate a fare feste e a scandire cori sulle tribune. La sfida in città era attesa da diverse settimane, anche per il blasone del Catania, costretta a ripartire dalla quarta serie dopo il fallimento della precedente società. Nonostante la delicatezza della contesa, il pomeriggio del Mazzola, vestito a festa per l'occasione, è scivolato via in assoluta tranquillità all'insegna delle sole emozioni calcistiche. Determinante in tal senso è stata l'attività della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, congiuntamente alle altre forze di polizia che hanno assicurato i servizi di ordine e sicurezza pubblica.